Un saluto a tutti e bentornati su Zenfactor Eccoci nella campagna di Gears of War 3 Rams in Shadow In questo video utilizzeremo RAM e distruggeremo le resistenze di questi deboli deboli cog Un saluto a tutti e bentornati su Zenfactor Ben fatto il mio generale, la città è caduta e questi piedi ommani non possono sperare di perdurci Fateli tutti a pezzi! Questi? Un saluto a tutti! 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 Ehm, chi è che mi lancia? Oh, trovo quello con lancia a fiamme Un silverback, due silverback Ok, un andato Oh, trovo quello con lancia a fiamme Oh, ho utilizzato una orex charge Questa l'ha sentita È un fatto, figli miei Ma il cielo non è abbastanza scuro perché i green possano nutrirsi Recatevi all'ultima postazione e richiamate un'altra ondata di silver Quando i nevassisti avranno oscurato il cielo, la città sarà nostra Comando Z6, abbiamo perso la scuola e non c'è traccia del Dottor Weiser Comando, qui Z6, vi ricevete? Inutile tenente, il rumore martellante sono i Seeder E i Seeder hanno interrotto le comunicazioni Beh, per trovare i sopravvissuti dobbiamo ristabilire un contatto con il comando Apriamo la caccia ai Seeder Sono come i cinghiali, ma più brutti Incredibile L'oscurità nasconde il giorno Già brutto affare Presto questo posto sarà un cimitero E pensare che una volta ci lamentavamo degli ingorghi Spesso ci lamentiamo di cose che finiamo col desiderato Amico, un giorno la penserò così anche sul tuo conto Contatto! E' l'altro, ovvio Oh oh oh, bel casino BOOM BOOM Un BOOMER E' l'altro, non preso E' l'altro, non preso E' l'altro, non preso E' l'altro, non preso chi ha fatto questo non ho mai visto tale massacro pagheranno cara chi è stato io di fronte ma ci sono troppi vermi tra noi e loro concordo lo scontro frontale sarebbe un massacro dividiamoci forse potremmo sorprendere io lo so che pare prendi taglia e sali su quella scala coprici mentre valera e io andiamo sui dati ci vediamo dall'altra parte amico merda c'è tutta la cavalleria macati questo è una buca un'altra buca sferde Eh, non ha freddo i colpi Prego Eh, guardarti il culo Porca acione Val, il tuo fratellino Ha l'età per arruolarsi Ancora un anno È incredibile come crescono in fretta Ed è un peccato che finirà Già, già Beh, ha sempre una sorella maggiore Che gli guarderà il culo Eh già Grazie, Baric Guarda, il Nemesis è sopra il municipio Oh merda Proviamogli e sterminiamogli Qual è il piano? Entrate nel municipio Il centro di comando mobile è ancora attivo Possiamo usarlo per controllare il martello D'accordo? Friggere dei vermi? Sì, mi sta bene Ora fai anche da traduttore Oh, là ce l'ho fatto entrare Che magnifico giardino Contaminato dalla sporcizia Fermi Fermi Qui … Ma essa Oh, non Oh, non Ah 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 che cin却 sicuro Chi ma una buca! ricordate qui il buco? ero All'interno, Zeta. Ci serve quel centro di comando. Wow, un'imboscata coi fiocchi. Non ho mai visto l'Ocuste usare queste tattiche. Cosa le sprona? Ram, non vedo l'ora di incontrarlo. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Nel prossimo attiveremo il mattello dell'alba e faremo fuori i sider qua fuori. Saluto a tutti e alla prossima.